Ma noi i piedi non li abbiamo mai staccati da per terra, forse qualcuno pensava di aver risolto tutti i problemi, non io assolutamente. Sapevo perfettamente le difficoltà di questa partita, avevamo fatto dei cambi, ci eravamo messi anche in una situazione di essere un pochettino più coperti con un centrocampista ridosso da una punta perché sapevo perfettamente che in alcuni ruoli noi siamo come caratteristiche, siamo un pochettino corti, di consenza giocare tre partite in una settimana e oggi si è visto perché alla fine eravamo veramente stanchi. Compromette un pochettino il percorso che avevamo fatto perché nonostante avessimo fatto quattro partite e dieci punti eravamo sempre in zona play-out, di conseguenza ci siamo ancora e dobbiamo tirarci fuori, abbiamo un'altra partita in casa di fondamentale importanza, è normale questa, speriamo che non pesi, speriamo che non pesi perché torno a ripetere, forse oggi al di là del risultato, il risultato più giusto poteva essere un pareggio e dovevamo accontentarci. E' quello il grande dispiacere perché alla fine l'ho detto dalla prima partita col Sud Tirol che quando si è in una situazione in cui bisogna tirare fuori la testa anche il punticino non essere belli, essere concreti, oggi purtroppo a un certo punto ci siamo chiusi un pochettino per il semplice motivo che non riuscivamo, facevamo fatica, si è visto palesemente, perdevamo palloni, abbiamo rischiato due o tre volte con Ilari la seconda munizione, però torno a ripetere, abbiamo fatto fatica, qualche d'una ha fatto molta fatica, chi ha giocato soprattutto le tre partite di seguito ha fatto molta fatica, di conseguenza stravolgere una squadra noi non siamo una squadra che può essere stravolta, abbiamo delle basi, abbiamo delle colonne portanti e se queste colonne portanti non danno il 100%, non sono in grado del 100% è normale che possiamo andare un pochettino in difficoltà. Detto questo abbiamo trovato una squadra e noi per caratteristiche quando troviamo le squadre che si chiudono, la Reggiana è venuta con otto difensori, è venuta, ci ha chiuso tutti gli spazi sapendo perfettamente qual è il nostro modo di giocare, sono stati bravi, poi quando ha visto che andravamo un pochettino in difficoltà ha fatto i cambi giusti perché ha i giocatori per poter cambiare di punti in bianco la partita e sono stati decisivi perché l'ingresso di sbaffo e di guidone sono stati due giocatori che hanno fatto la differenza. Aspighi ha sempre questi infortuni un pochettino che non riusciamo a capire, probabilmente il terreno di gioco, penso sia una botta, mi auguro che sia una botta che non sia una ricaduta sullo stesso problema perché sarebbe grave. Quando sono le giornate storte, oggi non è che io mi devo giustificare sull'errore o prendere, l'errore ci sta nella partita, il portiere fa parte della squadra, altre volte ci ha salvato, oggi non ha fatto bene, però come non ha fatto bene lui non abbiamo fatto bene tutti, non ho fatto bene io nelle scelte iniziali, però torno a ripetere una partita che per come si era protratta durante l'arco dei 90 minuti era una partita che non dovevamo assolutamente perdere. Ma sono scelte, sono scelte, Carrara aveva già giocato dietro la punta in due occasioni e probabilmente non ero rimasto soddisfatto, Bacolo aveva giocato giovedì una partita a Egregia, si era fatto trovare pronto, oggi probabilmente il primo caldo l'ha un pochettino abbattuto, ma non è quello, per giocare in questa maniera dobbiamo avere il supporto di tutti. Oggi abbiamo giocato un livello sotto tutti, costantemente, perché partendo anche dietro abbiamo fatto errori che di solito non facciamo e di conseguenza quando incomincia a commettere determinati errori esalti anche l'avversario, che onestamente è venuto e sembrava quasi che si volesse accontentare. La scelta era che loro, avendo Marchi che giocava da quella parte, giocando prevalentemente, attaccando la profondità, mi serviva un giocatore più in marcatura, per quello la scelta di Sales di investire da quella parte. Poi loro hanno cambiato completamente perché hanno sempre giocato con un 4-3-1-2, oggi per la prima volta in stagione hanno giocato con un 4-4-2 molto bloccato, di conseguenza non si poteva cambiare, si doveva interpretare in maniera diversa e non siamo stati bravi a farlo, però questo non significa, noi siamo stati bloccati anche dall'altra parte perché onestamente anche dalla parte destra nostra non è che abbiamo fatto grandissime cose, di conseguenza è un po' tutta la squadra che è andata un pochettino a ritmo ridotto, ma questo me lo poteva aspettare perché torna a ripetere, per noi giocare tre partite una settimana non è facile.